Sì, ci siamo? Ci sentite? Si sente? All'ombra si sente? Giovanotti, ragazzini, prendete posto. Mi dite che ore sono? Quindi manca ancora un minuto, datemi il via, quando siete pronti datemi il via. Ti informo che sei già in diretta. Sono già in diretta e tu mi dici in questa maniera. Te l'ho detto. Va bene. È 59. Allora. Mi dispiace. Svizzera. Via. Buonasera a tutti. Sette libri per sette sere. E a quale serata siamo arrivati? Siamo arrivati alla quinta serata. E cosa celebreremo stasera? Cominciamo a celebrare i nostri artisti, che io adesso chiamo a venire a salutare e a dirci della loro arte. E sono lo scultore, anzi, lo scultore Davide Mina e la ceramista Teresa Roca. Vi avvicinate, per favore. Prego, da questa parte Teresa. Allora, un po' di cavalleria. La parola a te, Teresa. Buonasera. Sono molto emozionata. Che discusa. Non si sente. Buonasera. Mi chiamo Rocha di Sosa Teresa. Ho 59 anni e sono brasiliana, però molto, è da tre anni che vivo qua in Calabria. In ottobre ho scelto di venire a vivere in Calabria, dal Piemonte. Quando l'ho visto la Calabria la prima volta, dieci anni fa, non sarei mai più tornata in Piemonte, perché mi è piaciuto tutto, il mare, le montagne, le persone, il mangiare, tutto. E poi ho deciso, tre anni fa, di venire qua e dedicare la mia passione, che è la ceramica, a fare, non sono un'artista laureata, niente, tutto solo per l'amore e tanta estardaggine. E mi piace quello che faccio, faccio con l'amore quello che faccio. Non so più cosa dire, ringrazio la dottoressa Babaluga, il presidente, il presidente, di darmi questa possibilità che non aveva mai fatto niente di... Lei mi ha trovato tramite un gruppo di artisti che mi hanno scritto in un gruppo. E vi ringrazio a tutti, tutti i calabresi che mi hanno ospitato in questa terra magnifica. Non so più cosa dire, sono molto emozionata. Grazie mille, grazie a tutti. Felicissimi di ospitarti. E hai detto bene, come hai detto, come si chiama professoressa Babaluga. Finalmente abbiamo scoperto il tuo nome, Simona Masciaga. No, 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 lo dico subito, Babaluga è un termine milanese che significa buon tempone, no? Perfetto. Buonasera, io sono Davide Mina e faccio uno scultore per passione, è una passione nel mio lavoro. Lavoro con il legno, mi sono appassionato al legno da quando avevo 12-15 anni. Ho iniziato proprio dalle basi, proprio dietro un mio zio che faceva il pastore, ma mi ha fatto conoscere le particolarità del legno che abbiamo noi nella nostra zona, come riconoscerlo, come fruttarlo. Ho iniziato facendo il classico un cucchiaio in legno, però quello mi ha permesso di acquisire la manualità, cioè con gli attrezzi, per tutto. Poi andando avanti ho fatto l'istituto d'arte, ho frequentato l'accademia, mi è sempre piaciuto disegnare, quindi ho applicato queste cose al discorso del legno e sono nate queste sculture, sculture che rappresentano sempre un pensiero, un mio pensiero, una mia considerazione, hanno sempre delle storie, quasi sempre, tranne qualcuno che c'è, non solo un gioco estetico, magari così. Io dico sempre che le sculture sono come un libro, cioè si guarda la copertina, hai che bella, però bisogna aprirlo poi, no? Per capire quello che è, ed è quello che faccio io con le mie sculture. Cosa sera ho portato solo tre, tre sculture che sono state fatte in tempi diversi, sono tre pensieri che io ho avuto, tre considerazioni, che però messi insieme formano questo discorso che, cioè ora non sono quattro, potrei descriverle, praticamente le descrivo da quattro. Cioè la prima scultura sono queste due persone che è intitolata litigiosamente, sono due persone che stanno azufando, si stanno litigando, il castagno, uno castagno quello che è dei frutti, uno castagno selvatico, già questa è la prima simbolo, anche per simbolo lavoro, ognuno cerca di prevalere, la verità sta in mezzo spesso, la verità è quella sfera che c'è al centro, la verità è orocolata, è un fogliore, quella è. La seconda è Oblio, è stata fatta tanti anni fa quella pure, ed è sempre la stessa persona che, sono tre volte, però guarda, il problema lo guarda da tre posti estivi diverse, cioè perché mai fermarsi alla benimpressione, cioè uno mai giudicare all'inizio, cioè perché se poi va a guardare il problema da un altro lato, magari scopre che forse c'è qualche... La terza è, cioè guarda, c'è pietà, l'ho chiamata pietà anche perché riconduce la classica pietà, è nata un giorno in cui c'era una discussione anni fa, un po' di anni fa, c'era stato l'ennesimo sbarco di migranti qua da noi, ma un po' di anni fa, c'erano stati dei morti e se stavano discutendo, le persone stavano discutendo, i classici tuttologi che hanno le soluzioni, e ognuno aveva la propria, dice no, dice li affondiamo, li rimandiamo alla loro casa, no, li facciamo venire, li facciamo lavorare, e c'era molta gente, il mio pensiero principale è stato forse un po' di pietà, piuttosto che parlare, visto che la soluzione non ce l'abbiamo, non l'hanno trovata ancora, non l'hanno trovata, ma questo può valere anche al di là del fatto di inedirante, può valere per una persona diseggiata, c'è sempre un motivo per cui quella persona, nessuno vuole stare male, quindi mai giudicare, e quindi è nata questa pietà, rimando alla classica pietà, l'ho scritto con le mie linee, con il mio modo di ingegno, e in più però, oltre alla faccia che noi vediamo frontale, se noi andiamo dietro questa scultura, si vede sempre la stessa persona che cerca di vincolarsi, cerca di reagire, cerca di... e non ci riesce purtroppo a finire male, e il risultato è quello, cioè questa persona enorme torretta da una donna, e questo è il senso di scultura. e poi altre hanno altri... l'ho sempre lavorato così, diciamo, mi fa piacere, per me è un momento di libertà, cioè ho lavorato pure, ho costruito mobili, ho costruito cose, ma quella è un'altra cosa, la scultura è sempre stato un momento di libertà, ecco, per esprimere quello che volevo, come altri lo esprimono con la poesia, con la musica, con un libro, ecco, io non esprimo così, forse non riesco, magari nemmeno tanto, forse con lo scolpello non riesco meglio. Grazie, grazie. Grazie a i nostri artisti, potete accomodare, grazie ancora. E adesso, adesso arriva il botto, il botto chi lo produce? un vulcano, un professore vulcanico, e chi può essere questo professore vulcanico? Daniele Gasprizzi. non pensavo, 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 con Saverio Autelitano, ci presenteranno l'opera, dal mito alla storia, Il mistero dei bronzi di Riace, e poi ci parlerai della tua bronzita. Ah, è sì. Ecco, allora, a te, in mezzo. Grazie. Buonasera, intanto, intanto, per me è terribile parlare da seduto, è una cosa, vorrei alzarmi, però, pare brutto, pure questo. Che vi volevo dire? Stasera, vi portiamo, a spasso, nel mondo dei bronzi di Riace, vi premettiamo che non siamo dei venditori di pentola, né abbiamo necessità di portare avanti teorie suffragandole su Facebook o sui social. Le cose che voi vedrete stasera, che sono poi nel libro edito da Rubettino, sono, in quel momento, il punto più avanzato degli studi dove eravamo arrivati, e tutte le cose che trovate scritte nel libro sono cose che sono state già sottoposte a convegni internazionali, a pubblicazioni internazionali, in consessi dove non si entra se non c'è un referaggio. Cioè, no, mi alzo la mattina, i bronzi sono di Siracusa, che è sta cosa? Allora, vuoi affermarlo? Prima vai a un congresso internazionale, prima lo dimostri a livello scientifico, dopodiché ne possiamo anche parlare a livello di giornale. Quindi noi non siamo venuti qui per ribadire o fare. Vi vogliamo contagiare la bronzita, la bronzita la presi nell'81, quando avevo 17 anni, tornavo da un viaggio in Inghilterra, i bronzi erano appena arrivati al Museo di Reggio a luglio, io arrivo alla fine di agosto, dopo un mese in Inghilterra, buonanime il mio padre mi aveva mandato in Inghilterra perché io imparassi l'inglese chiamassi il popolo inglese. Sono tornando, odiando, sono anglopatico totale, odiando l'inglese e disprezzando in modo totale la cultura, poi ho un sacco di amici inglesi, la cultura anglosassona. Arrivo al Reggio, si erano appena spente le code davanti al museo e io, che volevo fare il magistrato, sono entrato a vedere i bronzi. Entro a vedere i bronzi e rimango folgorato. Perché? Perché poi, nel corso degli anni, nella mia carriera prima di archeologo, poi di professore universitario, sono andato a guardarmi tutte le altre statue di bronzo che conosciamo, ormai mi manca pochissimo di tutto quello che è stato prodotto dai greci e dai romani. E devo dire che nessuna statua sembra vera. C'è nel film fatto da Fabio Mollo che si chiama Semidei, non so se avete avuto modo di vederlo, c'è questo zingaro di Gioia Tauro che però canta a Riace che quando Fabio Mollo il regista gli chiede ma i bronzi tu pensi che siano state delle persone vere? Quello gli fa certo. Prima era un uomo. Come hanno fatto a farlo diventare di bronzo? perché l'impressione incredibile che abbiamo noi quando vediamo i bronzi e vi racconto un altro piccolo aneddoto ero con un giornalista importante della Algemein del Frankfurter Algemein che aveva fatto mi aveva fatto un'intervista sul cinquantenario dei bronzi ed eravamo insieme a vedere i bronzi al museo e vedevo che lui rideva si guardava verso i bronzi Cosimo e rideva prima, seconda, terza poi Calabri si sogna quindi gli ho chiesto ovviamente perché stesse ridendo mi fa guarda arrivano qui le persone stanno quattro secondi si girano si fanno il selfie e nel momento in cui si fanno il selfie io rido mi fa perché l'essere umano pare il bronzo e noi sotto sembriamo delle caricature non siamo umani quanto il bronzo la bellezza di queste statue se voi andate a vedere la seconda in ordine mio di importanza è il cosiddetto Cronide per me Poseidon altri pensano che sia Zeus che si trova al museo archeologico nazionale di Atene io mi ricordo la delusione l'ho vista nell'82 quindi avevo visto i bronzi e nell'81 mi era venuta la bronzina vedo il Cronide nell'82 e sono deluso perché sembra un otre gonfiato non ha coerenza non sembra che sotto abbia le ossa mentre se voi andate a guardare i bronzi ho portato tanti medici in visita e tutti mi hanno detto no dal punto di vista anatomico sono perfetti cioè come se avessero le ossa dentro in verità sono una sottilissima lama una sottilissima lamiera di bronzo che ha costruito questa meraviglia finisco e poi cominciamo a raccontarvi le cose per portarvi dentro questo mondo 30 anni di ricerche poi il grande aiuto che è venuto da un visual designer come è Saverio il quale è riuscito a fare e vedrete quante cose belle è riuscito a riprodurre e come con una vera casa una riproduzione tridimensionale precisa dei bronzi permette giornalmente di fare delle acquisizioni nuove perché siamo al punto che possiamo andare a guardare qualsiasi imperfezione sul bronzo ci viene in testa che cosa è questo segno sulla testa del bronzo B e se dovesse andarlo a vedere sul bronzo vero come farei chi mi darebbe il permesso di andare ad arrampicarmi per vederlo abbiamo la ricostruzione perfetta e quindi possiamo lavorare da casa e ragionare e fare le nostre ipotesi vedrete ora Saverio ci accompagnerà per una ricostruzione ideale per farvi vedere come erano i bronzi nell'inizio finisco che cos'è la bronzite ma la bronzite è semplicemente che io da fine agosto dell'81 non riesco a stare lontano dai bronzi e se non vado almeno una volta al mese sto male quindi dall'81 a oggi sono andato tutti i mesi almeno una volta al mese a vedere i bronzi e voi mi direte e con la pandemia ma io sono professore universitario sono andato dal rettore mio e gli ho detto fammi fare Saverio e altri hanno provveduto fammi fare un modello 3D che mi riguardo col telefonino per cui io durante la pandemia mettevo il target quando mangiavo e col telefonino col tablet mi vedevo i bronzi e così sono riuscito a sopravvivere anche alla pandemia perché la bronzite è terribile e siccome sono quasi un mese che non sto andando a vedere i bronzi non vedo l'ora che sia giorno 2 che faccio una cosa al museo e porterò delle persone a vedere i bronzi sono già emozionatissimo come se li vedessi la prima volta finisco veramente perché siamo qua perché abbiamo fatto un libro abbiamo fatto un libro perché non ci possiamo accontentare questo su questo parlo anche a nome di Saverio e di Cristina che è la terza autrice del libro che non parla mai in pubblico perché abbiamo fatto un libro l'abbiamo fatto perché non ci possiamo accontentare noi non ci possiamo accontentare di un approccio estetico i bronzi sono belli ma i bronzi hanno un messaggio i bronzi rappresentavano dei personaggi e questi personaggi avevano un importante messaggio politico che è stato talmente forte che quando sono stati portati a Roma pensate tutti da Cicerone in poi hanno utilizzato i bronzi come strumento politico per dire non bisogna fare la guerra civile sono diventati il punto di riferimento di poeti come Stazio di altri grandi poeti romani Lucano nei Farsaglia tutti citano i personaggi dei bronzi che non conoscevano prima ma sono stati sono diventati importanti perché i bronzi erano belli pure all'epoca erano straordinari pure all'epoca per un monito politico importantissimo noi di questo parliamo ma per fare le cose per bene Saderio che ha curato le ricostruzioni è in grado di farvi vedere come leggere i bronzi cosa abbiamo fatto siamo andati a guardare i segni che sono rimasti sui bronzi e abbiamo cercato di capire quali elementi mancavano e li abbiamo rimessi a loro posto che non è facile perché uno può dire manca sulla testa del bronzo ha un elmo corinzi ma Saderio è stato costretto a prendere gli elmi corinzi di tutte le epoche fino a quando non ha trovato l'elmo corinzi che calza perfettamente guardate che Saderio è terribile è terribile ogni tanto mi telefonano e mi fanno ma lo sai che l'elmo funziona e io Saderio certo che funziona sì ma lo sai appatta perfettamente per me era ovvio ma noi non si può convincere sulla parola mia io dico una cosa e lui ci crede perché l'ho detto io quindi vi lascio nelle sue mani e poi tornerò e parleremo delle implicazioni delle fonti e le cose politiche state tranquilli non saremo molto lunghi e lasceremo spazio alle vostre domande che spero saranno numerose per intanto tenetevi salve grazie Daniele come Daniele che ha anticipato uno studio lunghissimo lui studia i bronziriace da una trentina d'anni sì infatti ci conosciamo da una quindicina noi e quindi sono tanti anni che lavoriamo su queste cose però vi posso assicurare e lo so che sono di parte ma Daniele è il massimo esperto su queste statue lo dimostra la comunità scientifica internazionale ma io vi dico subito perché allora vi ho parlato di segni Daniele una cosa importantissima la lettura dei segni che poi è quel metodo che si sta ribattezzando metodo bronziriace a questo punto che si pubblica da altre statue la lettura dei segni che pochi hanno fatto in questi 52 anni ormai che sono passati molti dicono averli studiati ma solo superficialmente sul libro c'è tutto un resoconto che abbiamo fatto degli studi fatti negli ultimi 50 anni cosa funziona cosa non funziona perché si è giunti a un altro studio che è quello che vi proponiamo è quello che vi facciamo vedere nelle mie ricostruzioni allora la lettura dei segni parte dalla testa vi faccio vedere perché parte dalla testa perché molti hanno pensato di mettere di tutto sulla testa di queste povere statue qualunque cosa cappelli a cono elmi di qualunque epoca ma se uno legge bene i segni guardate vi faccio vedere vedete questo triangolo sulla fascia e questo incavo dietro anche i capelli appiattiti sono il segno che c'era qualcosa ma qualcosa cosa qualcosa che si appatta con i segni che vi faccio vedere ancora qui vedete questi riccioli come sono modellati insolitamente perché si deve appoggiare un elmo elmo che per resistere alle intemperie era fissato con un perno di cui ci sono ci è rimasto un buco i segni del perno che ora è stato rimosso allora vi faccio vedere cosa calza perfettamente come un guanto un elmo corinzio del quinto secolo avanti cristo non del terzo non del quarto non del niente credete mi ho provato a mettere di tutto l'elmo corinzio del quinto secolo avanti cristo calza come un guanto su entrambe le statue tra l'altro quindi già ci dà un indizio sulla collocazione temporale di questi due capolavori ho modellato due elmi veri che esistono uno è costruito a londra e un altro a berlino sono due elmi corinzi del quinto secolo avanti cristo di fatti li ho usati entrambi li ho provati su entrambe le statue e funzionano perfettamente vi faccio vedere un po' la ricostruzione che propongo con tutti i pezzi al loro posto anche gli occhi che vi spiegherò e guardate come funziona già il volume si riequilibra vedete che meraviglia però noi abbiamo finito perché le statue sono due la statue B è ancora più curiosa vi faccio vedere una cosa questa è una testa di Atena che si trova a Roma con quest'elmo sulla testa che lascia questi segni guardate questo triangolo che curioso vedete stessa cosa noi la troviamo sul nostro amico bronzo B guardate questo triangolo e anche quest'altra placca sulla testa che sono di un bronzo più ramato sembra rame ma Mima questo rame martellato vuole vuole far finta di essere del cuoio se lo guardate con attenzione quindi deve essere questo cuoio che viene visto dai buchi dell'elmo ora vi spiego perché ci sono i segni di questo indumento qui è come li ho modellati e qui dietro vedete che è strano è diverso è stato fatto un po' in maniera diversa il lavoro di B però ci sono dei segni di uno strappo uno strappo recente io azzarderei il 72 ma non so ma è da vedere ci sono altri segni importanti vedete allora la nuca fa vedere che vi si doveva appoggiare un indumento sotto l'elmo di qualche tipo così come abbiamo dei segni dei segni di chiodi sulle orecchie e questo che è interessantissimo questo segno in mezzo alla barba che dice che c'era un sottocola quindi una cuffia una cuffia di cuoio la cuffia di cuoio è una delle cose che ha scoperto Daniele ai suoi studi Daniele ha scritto un bel libro che parla di segni di comando nell'antichità uno di questi è la cosiddetta corinzie che qui vi faccio vedere accennata e ricostruita come deve essere indossata sotto l'elmo ed è un'invenzione geniale se ci pensate perché questa cuffia di cuoio che è il segno del comandante del re dello stratego e questo ricciolo dietro lo vedono solamente i tuoi soldati quindi il tuo nemico non sa chi è il capo ma i tuoi lo sanno una volta indossato l'elmo si vede solamente il ricciolo ed è un'invenzione geniale vi faccio vedere su una moneta dove l'ho evidenziato questa è Atena e vi faccio vedere anche questo Ettore che sta su un vaso a Roma nei musei vaticani dove si vede questo indumento antico che già era antico per i tempi se ho ben capito vero Daniele qui vi faccio della ricostruzione un po' più realistica ho i modelli 3D vedete anche i segni dei perni che ho trovato sulla testa permettono di fissare l'elmo perché queste statue stavano all'aperto e quindi bisognava fissare tutti i punti di criticità in qualche modo quindi ci sono dei perni dei punti di fissaggio ora una cosa importante però e qua bisogna spiegare un pochettino perché questi del meno sulla testa perché questi del meno sulla testa secondo Daniele allora spiego ai miei ragazzi nelle mie lezioni universitarie che il mondo antico non è fotografico ma iconografico allora la fotografia è la fotografia devo riprendere Saverio faccio una foto e Saverio è com'è lo vedete ma nel mondo antico iconografico se io devo fare capire chi è Saverio allora io userò segni iconografici lo farò assomigliare per esempio al dio Efesto se voglio rappresentare uno scultore lo farò se è un generale non gli metterò l'armatura sua ma gli metterò l'armatura di Alessandro Magno nei film penso al Gledatore a un certo punto arriva Marco Aurelio con questa corazza anatomica con una testa di gorgone messa qua sul petto e quella è l'armatura di Alessandro Magno ma qua l'imperatore nel secondo secolo dopo Cristo avrebbe usato un'armatura di quarto secolo avanti Cristo è come vedere la Meloni vestita da Lanzichenecco non ha senso non ha senso lì si sta dicendo l'imperatore è il nuovo Alessandro Magno vince come Alessandro Magno è l'iconografia i bronzi sono nudi ma non perché avessero caldo o perché non avessero i soldi ma fanno morire gli anglosassoni che nelle loro ricostruzioni dei nostri guerrieri di quarto secolo avanti Cristo arrivano sempre nudi ma chi combatte nudo ma è cretino in verità sono nudi perché nel mondo antico il vestito più presuntuoso è la nudità quando l'imperatore viene raffigurato nudo è perché è la nudità eroica cioè si sta mostrando al popolo come un dio se avessero fatto una statua a me il cappotto ci voleva ma questi sono due eroi e sono nudi però dovevano fare capire che erano guerrieri e allora gli hanno messo l'elmo ma l'elmo in quella maniera non sta sulla testa io mi sono comprato un elmo a San Marino 36 euro ce l'abbiamo mi sono messo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo mi sono messo e me lo metto ora non lo faccio più perché gli esperimenti sono finiti me lo mettevo a casa a casa in questa maniera vedete che devo tenerlo con le mani perché non sta non sta in piedi cade nei film però si vedono questi guerrieri greci che stanno con questo e lo messo in questa maniera che cade in verità se noi andiamo a fare un po' con l'istoria dell'arte greca fino agli inizi del quinto secolo avanti cristo questi elmi corinzi erano sempre mostrati calati sulla faccia come l'unico modo per portarli poi qualcuno agli inizi del quinto secolo avanti cristo ha detto ma io voglio fare vedere la faccia di questo eroe e allora gli hanno messo l'elmo spostato per l'altro ma è iconografia non fotografia cioè la gente non stava con l'elmo in quella maniera era soltanto il modo di fare vedere il volto dell'eroe voi immaginate i bronzi con i due elmi calati e come si capiva chi era l'uno e chi era l'altro e le espressioni del volto che come vedremo sono molto importanti nei bronzi i bronzi non sono a una foto di matrimonio o alla foto del passaporto sono due che hanno due espressioni completamente diametralmente opposte sono due attori fermi nel bronzo che recitano due parti diverse ecco perché l'iconografia è importante ma per essere un guerriero non basta solo l'elmo ma bisogna anche avere altri elementi e qui è molto importante e il saverio adesso ci mostrerà cosa manca giustamente se sono guerrieri dobbiamo cercare le armi i segni ci sono tutti vi faccio vedere qualcosina guardate qui i segni su braccio l'ambraccio tutto quello che c'è rimasto questo su B questo su A guardate c'è il segno di che cosa di lancia o critica chiaramente se fate attenzione impugnate anche in maniera differente anche qui come accendeva Daniele oltre alle espressioni anche l'atteggiamento del corpo è differente nei due personaggi ma se hanno le lance due opliti hanno anche gli scudi guardate qui ci sono i segni su A ci sono il porpax che è questo bracciale che si ancora allo scudo per tenere lo scudo e l'antilabè che è questa corda che corre tutto intorno allo scudo per stringerlo ora questo è il pezzo che è stato trovato a Riace e che è pertinente alla mano di A e proprio sembra un pezzo di corda fatto di bronzo quindi sicuramente si dice che c'è uno scudo stessa cosa con B dove abbiamo anche un ulteriore segno di ancoraggio per lo stesso discorso che vi ho fatto prima sulla spalla perché dovevano stare all'esterno acqua, vento qualunque cosa dovevano resistere quindi che abbiamo? abbiamo due opliti armati pronti a combattere che impugnano che impugnano le armi in modo differente vi faccio vedere una cosa curiosa vi faccio vedere a confronto ricostruiti guardate già vi rendete conto delle espressioni differenti la postura leggermente differente eccoli qua uno e due questo invece vi faccio vedere lo scudo la corda intorno allo scudo che è quella di cui parlavo prima qui c'è Daniele che fa la dimostrazione in uno spettacolo nostro ma la cosa curiosa è come impugnano la lancia cioè questo già ci dice molto che ci dice Daniele? allora come vedete il bronzo A tiene la lancia tra pollice indice e medio chi ha fatto lo scout sa che così l'Alpenstock viene tenuto la bandierina degli scout si tiene in quella maniera e serve per evitare che sia alla fine dà fastidio tenerla così in questa maniera è molto semplice perché si appoggia come nel bronzo al braccio e si può camminare senza fare strofinare la punta perché non ci dimentichiamo che le lance degli antichi avevano due due punte la punta foglia quella per ammazzare in prima battuta però dall'altra parte avevano un puntale e in caso che si fosse rotta la punta numero uno la punta principale le lance potevano essere girate e si potevano combattere anche nell'altro modo considerate che tra l'altro non voglio fare della lunga abbiamo promesso di essere brevi ma il mondo antico avrebbe inventato un modo per cui io e Cosimo e Saverio potevamo combattere senza bisogno di allenarci tutti i giorni che è la falange oplitica nella falange oplitica a me a Cosimo e a Saverio ci avrebbero messo un'armatura di bronzo che poi non era bronzo nel periodo dei bronzi è un'armatura di lino cotto che è ancora più forte e potente il Kevlar moderno ha ripreso l'idea di questa armatura di lino cotto che usavano in Grecia Antica scudo di bronzo elmo di bronzo schinieri di bronzo praticamente non dovevamo sapere fare niente dovevamo alzare la lancia e fare bu o insultare la mamma di quello che avevamo di fronte questo era tutto l'obbligo che dovevamo fare ci dicevano l'unica cosa che non dovete fare è voltare le spalle e scappare per il resto fate quello che volete state fermi avanzate tutti vicini se mi avessero fatto combattere a me con la spalla sarei morto immediatamente perché non eravamo spartani che ci allenavamo tutti i giorni eravamo professori contadini artigiani ingegneri che venivamo chiamati a combattere e che col sistema della falange oplitica potevamo combattere senza bisogno che ci dobbiamo allenare tutti i giorni nella nostra vita allora è importante tenere la lancia in ordine come diceva Saverio a cui ripasserò subito la parola per parlare credo del colore che è la cosa importante parliamo del colore il bronzo A tiene la lancia con stavalderino cioè se io sono in questa posizione prima di combattere devo fare due o tre movimenti il bronzo B no il bronzo B tiene la lancia a ronca sotta per terra pronta la punta della lancia del bronzo A è in alto la punta della lancia del bronzo B è in basso pronto a combattere se ti avvicini ti ammazzo alzo il braccio invece A la tiene come se fosse imparata è lì messo bello come il sole non ho paura di niente quindi vedete che il linguaggio del corpo il fatto che A sia più magro più giovane che B abbia l'inizio della pancetta è tutto fatto apposta è tutto fatto apposta qua ci troviamo di fronte al più grande bronzista della storia riconosciuto come tale dalla storia non riconosciuto da noi era un caso e poi più avanti discuteremo giustamente voi li vedete colorati le vedete colorate queste ricostruzioni perché niente di fantasia ve lo assicuro allora questa fa parte di un studio successivo che abbiamo fatto allora vi faccio vedere un paio di cose la statua A è una se non l'unica forse mi pare di bronzo è l'unica che mostra i denti ha questi denti d'argento quindi dovevano vedersi e ben chiari anche alle labbra di rame le statue hanno aspettate che mi cerco le caratteristiche anatomiche hanno dettagli incredibili sono le uniche al mondo avere questa pietrolina per la sacca lacrimale di un'altra pietra di un altro colore i capezzoli di rame guardate torniamo qua guardate il segno del colore sulla barba si vede ancora dove è consumato il bronzo quindi già l'indizio c'è che le statue potessero essere colorate allora è partito questo studio vi faccio vedere questa cosa allora questo è un carotaggio che è stato fatto sulla gamba del bronzo B molto piccolo qui ingrandito per controllare lo stato di salute del bronzo come sapete c'è il pericolo che si corrodesse perché sono stati in mare tanto tempo il sale li stava rovinando il restauro speriamo li abbia salvati allora è un si è visto questo colore dorato io chiamo biondo poi per un motivo perché vedete la lega di bronzo è fatta da stagno e rame più stagno c'è e più diventa biondo il bronzo più il rame c'è e più lo vediamo rossiccio ramato perché perché è come una tela perché noi partiamo al colore più chiaro guardate che è quello che siete poi nelle barbe attentamente per poterlo poi scurire questa è la barba di B come l'ho immaginata bionda per com'è in effetti ma si è trovata traccia di zolfo sulla superficie dei bronzi di lace cos'è è il fegato di zolfo molto probabilmente quello deve essere perché è una sostanza chimica che si usa per scurire chimicamente il metallo io non posso pitturare delle statue che stanno sotto la pioggia perché durano una settimana ma se io faccio questo lavoro chimicamente ho una colorazione permanente questo è vero questo è un campione vero che ci ha fatto un nostro caro amico che lavora i metalli che si chiama Domenico Golella ha fatto delle campionature selettive vedete si può ottenere qualunque tonalità diciamo della pelle dal finlandese all'africano qualunque tonalità come vedete con la giusta gradazione questa è la fusione che hanno fatto i giapponesi all'università di Tokyo come vedete il colore originale della fusione è questo giallo biondo e questa è la prova che ho fatto inizialmente ma poi sul modello tridimensionale con un po' di buon senso ho provato a applicare selettivamente queste patine guardate che meraviglia guardate che risultato ora io dico bellissimo siamo arrivati qua però ci si rende conto di un altro dettaglio tutti i venti riccioli della barba di A sono fusi tutti separatamente e hanno tutti i percentuali di fusione diverse quindi in colore variabile tra il biondo e il ramato come vedete ora io sempre con un po' di buon senso ho provato a immaginare cosa potesse essere questa meraviglia della barba del bronzo guardate un po' io ogni volta che scopro qualcosa ogni volta che scopriamo qualcosa ci rendiamo conto di che artista doveva essere l'autore dei bronzieri mi piace non solo uno scultore incredibile probabilmente il migliore della sua epoca ma conosceva tutto la chimica il chiaroscuro pittorico mi errebbe da dire il Leonardo dell'antichità però non lo so forse meglio di Leonardo comunque questa è la ricostruzione delle statue nella loro integrità e sono due statue che stanno recitando Daniele vero? sì allora il passaggio successivo perché noi avremmo potuto fermarci qua oggettivamente il passaggio successivo doveva essere sulla identificazione dei personaggi e l'attribuzione a qualcuno da cosa si partiva? allora la prima cosa da cui si è partiti è che l'analisi della terra diffusione fatta in quattro posti diversi quattro analisi indipendenti ha dimostrato l'ultima ancora non è uscita ufficialmente ma ce l'hanno già comunicata privatamente perché il bello di studiare i bronzi è che uno poi alla fine diventa amico di tutti coloro a livello mondiale che studiano i bronzi quindi ci scambiamo le informazioni anche quelle che non sono ancora uscite scientificamente la terra diffusione delle due statue è la stessa le dimensioni delle statue Saverio ora vi mostrerà l'immagine una cosa curiosa guardate le due statue sono alte 1,96 1,97 B B è più alto perché ha la calotta cranica deformata ma se voi guardate in queste immagini a sinistra avete sempre il bronzo A a destra il bronzo B e Saverio può garantirvi che non c'è l'uso di photoshop se non per affettarli a metà ma non c'è stato uno sforzo di farli combaciare a forza sono le due immagini come sono le stesse dimensioni messe una accanto all'altra vent'anni di differenza tra le due statue concepite da un artista di verde da due artisti di verde l'aveva capito benissimo Nick Spatari che aveva fatto il ritmoso delle statue e aveva detto ma cosa state dicendo ma queste state sono state concepite da una sola persona tra l'altro il modo con cui sono state fatte ci dà una importante è stato scoperto ancora non è nemmeno pubblicato il professore Antonio Corso che attualmente lavora in Grecia è il più grande esperto di statuari al mondo che abbiamo e mi ha detto e ha scritto un articolo che tra un po' uscirà che le statue non hanno ancora conosciuto il canone di Policleto perché da quando nel 435 viene fatto il canone di Policleto tutte le statue sono col canone di Policleto quindi queste sono prima del 435 dentro la gamba del bronzo B sono stati trovati riframenti di ceramica di metà di V secolo a.C. il carbonio 14 ci dice che sono di metà di V secolo a.C. ma il carbonio 14 a volte è un po' impreciso l'elmo che Saverio è riuscito a mettere sui due è di metà di V secolo a.C. Saverio ha provato a mettere elmi di fine V secolo a.C. non entro allora le statue sono di metà di V secolo a.C. e fanno parte dello stesso gruppo allora questo gruppo che dobbiamo cercare deve avere alcune caratteristiche e due le abbiamo trovati una è che un personaggio mostra i denti perché è arrabbiato eccolo qua l'altra c'è un'immagine che ha trovato ultimamente Saverio non voglio chiamarmi perché poi non mi piacciono queste cose ma ha trovato un'immagine bellissima in cui si vede che addirittura c'è il qua la luce non rende giustizia però c'è il muscoletto che sta qui sopra il naso che è tipico di quando uno si arrabbia vediamo qua se si vede un po' si vede qui un pochino c'è il muscolo qua che in alcune in alcuni scorci si vede che è proprio alla faccia proprio arrabbiatissimo B invece come abbiamo spiegato è un comandante un tiranno o un re quindi nello stesso gruppo ci deve essere un personaggio arrabbiato e un re o un tiranno e la scelta è stata facilissima perché nel mondo antico esiste soltanto un gruppo statuario che ha queste caratteristiche e si chiama i fratricidi di Pitagora di Retto che sono rappresentati secondo gli studiosi nel modo migliore in questo sarcofago attico non mi fate ingannare dalla parola attico sono fatti a Roma il sarcofago attico di secondo secolo dopo Cristo la parte che ci interessa è il gruppo a cinque che si vede nella parte eccolo qua che si vede nella parte sinistra del sarcofago si tratta del momento più terribile dello scontro tra Etreo e Teocle e Polinice e i figli di Edipo che arrivano addirittura a scontrarsi in guerra per il possesso di Tebbe e dopo che c'è stata la grande battaglia sotto le mura di Tebbe in cui gli argivi guidati da Polinice sono stati sconfitti decidono di fare un duello per risolvere le cose ma arriva la madre per fermarle e noi abbiamo la fortuna tutte queste cose si trovano nel libro spiegato un po' altre testimonianze sempre a Roma abbiamo la abbiamo avuto la fortuna di avere il testo letterario da cui è stata presa l'idea dei bronzi cioè noi siamo in grado di fare parlare il gruppo che abbiamo ricostruito sulla base della del sarcofago di Villa Doria Panfili che è questa eccolo qua il gruppo vedete un gruppo a 5 Eteucle il figlio maggiore di Edipo che ha preso il potere dopo che il padre era abdicato ma aveva promesso al fratello di restituirlo dopo un anno e quando torna Polinice dopo un anno Eteucle lo bandisce senza un soldo vai via cane e Polinice va alla corte del re di Argo sposa la figlia del re di Argo e il re di Argo gli manda un esercito per i sette a Tebbe per riprendere il trono grande battaglia grande sconfitta degli argivi si finisce con un duello questo è il momento del duello i cinque personaggi sono Polinice che vedete in primo piano Antigone il prototipo delle sorelle che cerca di calmare che cerca di calmare Polinice al centro abbiamo la madre straziata io non so quello che darei per trovare la statua della madre deve essere il più grande capolavoro della storia veramente e cerca di fermarli e dall'altra parte il personaggio caratterizzato da questa postura che significa sono in angoscia nel mondo antico è Tiresia Tiresia che è un po' il motore immobile di tutta questa storia perché Tiresia è quello che aveva brigato per non fare salire al trono Polinice e Tiresia era quello che aveva detto che Apollo gli aveva predetto che se i due fratelli si fossero scontrati in combattimento sarebbero morti entrambi questo è il succo politico di questa cosa se due fratelli si scontrano non ci sono vincitori su questa base il gruppo è finito poi a Roma non abbiamo il tempo per fare tutta la storia perché vorrei che ci fosse tempo per le vostre domande su questa base è finita a Roma per questo motivo Augusto l'ha messo nella la curia di Pompeo dove era stato ucciso Cesare per dire le guerre civili sono finite nelle guerre civili e due fratelli si combattono perdono tutti e due e da quando i bronzi arrivano a Roma Cicerone chiama Cesare e Pompeo Eteogl e Polinice e tutte le volte che si parla di discordia interna esce fuori Eteogl e Polinice come modello negativo il gruppo che abbiamo visto era il modello politico Costantino se li è presi e se li portava a Costantinopoli per ribadire il concetto non le guerre civili fanno male a tutti nessuno può pensare in una guerra civile di avere la vittoria perché nelle guerre civili come nelle guerre tra fratelli perdiamo tutti questo è il grande messaggio solo che non ci sono arrivati a Costantinopoli no a Costantinopoli non ci sono arrivati io mi fermerei un attimo Salve se non ti dispiace mi dispiace chiamare delle cose no dimmi e se possiamo vedere la più grande fortuna perché ho avuto due grandi fortuni in questo studio più più di ora l'altra poi ne parlerà più che è la base stiamo avendo una fortuna dopo l'altra però la prima fortuna fu quando trovai un passo di Stazio il poeta Fabio Stazio che a Roma nel 96 dopo Cristo scrive la De Baide e racconta questa storia e l'undicesimo libro è tutto dedicato al duello allora nel momento del duello la prima parte del libro sono cinque personaggi che partono che sono questi cinque e a un certo punto quando entra in scena Eteocle e si vede e lo vede Polinice il fratello il fratello ostile tuenza dice in latino lo guarda in maniera ostile perché Stazio perché gli vede sulla testa l'elmo del re gli vede la chionella per cui Stazio vedeva i bronzi di riace descrive la madre per come la troviamo nel nel sarcofago e nelle altre perché noi abbiamo una ventina di immagini che vengono da questo gruppo statuario molto famoso nell'antichità citato da un grande poeta un grande retole cristiano che si chiama Taziano il Siro il quale alla metà del secondo secolo dopo Cristo dovendo fare un discorso contro i pagani lui era cristiano dice enumera tutti i miti che sono immorali dei pagani Zeus che è uno che va femmine si è rapito Ganimede pedofilo tutti questi miti brutti Europa su Toro che viene rapita ma la tua incontinenza sessuale fa rapire i travesti da Toro per poter rapire una fanciulla ma quanto fai schifo dice voi pagani tenete in onore il fratricidio perché vedendo in greco è Orontes vedendo voi romani che siete qua il gruppo di Eteuro e Polinice non li mettete sotto terra insieme al loro autore Pitagora di Reggio ci dà il nome e l'autore metterlo sotto terra tra l'altro è bellissimo perché in greco è katabotrosan che vuol dire metterlo in un botros il botros è una fossa sacra dove si mettono gli oggetti sacri che non possono essere più utilizzati l'oggetto sacro non può essere buttato nella spazzatura l'oggetto sacro l'ha messo in un botros è nascosto sotto terra quindi grande rispetto l'altra grande fortuna è stata quella di andare a leggere il papiro di Lille opera di Stesicolo di Metauro cioè di Gioia Tauro che i bronzi di Riace sono di Pitagora di Reggio e su una storia fatta da Stesicolo di Gioia Tauro per la serie La Calabria non conta niente non abbiamo mai fatto niente nel mondo tutte queste belle cose il papiro di Lille il papiro di Lille è il papiro di Lille è il papiro di Lille e il discorso ci restituisce due discorsi ci restituisce il discorso della madre quindi voi avete presente l'immagine della ricostruzione che Saverio ci ha fatto vedere la madre è al centro prende la parola e dice però in estrema sintesi figli Pitagora ha detto che se voi vi scontrate morite tutte e due allora facciamo una bella cosa facciamo un bel sorteggio chi vince si prende il regno chi perde si prende tutto l'oro e tutto il bestiame e se ne va i due furono d'accordo c'è scritto nel papiro di Lille ma poi parla Tiresia e Tiresia dice un momento il popolo di Tebbe non accetterà mai Polinice che è venuto con un esercito e ha fatto morti nostri nostri figli nostri fratelli nostri cugini nostri amici noi non l'accetteremo mai come tiranno noi vogliamo Teocle e gli dice tu Polinice hai sposato la figlia del re di Argo sarai re di Argo vattene ad Argo prenditi il bestiame prenditi l'oro e vattene le ultime parole che si leggono sono Polinice si arrabbiò e ancora come vedete è ancora arrabbiato e ci potremmo anche fermare qui ma non ci fermiamo qua vi rubiamo altri cinque minuti perché vi dobbiamo raccontare tre cose velocissime delle ultimi colpi fortunati il primo colpo fortunato Savero ci racconta Argo siamo andati ad Argo su segnalazione di due amici nostri Costas Costantino Sazian Pasis e Christos Fiteros sono il giorno e la notte Costas è un simpaticone un allegrone ha fatto il dottorato a Messina da me invece Christos Fiteros è forse l'uomo più pedante che esiste su questa terra bravi tutti e due ci avevano chiamato perché avevano sospettato che su una base nel lago Rà di Argo ci fosse dei segni del bronzo A ma ora vediamo con saperio quello che è successo un paio di anni fa abbiamo fatto questo viaggetto ad Argos e abbiamo fatto una abbiamo confermato la scoperta di Costas perché vedete questo è Argos questo è lago Rà in basso e questo è una struttura semicircolare o qualche ne rimane all'interno dell'Agorà guardate la fortuna ci ho detto i segni sono qua sono rimaste due basi le altre sono crollate guardate su questa base cosa abbiamo trovato i segni in cui calza perfettamente la strada A guardate c'è anche il segno della lancia ricordo quando ho finito di fare la ricostruzione tridimensionale stavamo tornando dal viaggio ho provato a mettere la strada e ci siamo guardati in silenzio con Daniele un quarto d'ora senza dire nulla perché uno non ci crede se non lo vede non ci crede abbiamo visto questi segni lì ma finché non ci metti sopra la statua con le misure già verificate non ci crede effettivamente è così vedete ci sono i segni dei piedi guardate c'è anche il segno di scasso davanti perché poi le statue sono state portate via e quando abbiamo visto le impronte proprio il segno delle dita già eravamo a cavallo mi ricordo solo che ci siamo fatti una domanda curiosa dice ma i tenoni i tenoni sono quelle parti di piombo che sono state trovate attaccate ai piedi dei bronzi di riace che probabilmente sono stati messi a Roma perché anticamente non si usavano le statue stavano in piedi per gravità prima Daniele vi ha parlato di canone per un motivo ben preciso perché la statua sta in piedi aspettate se riesco a farvela vedere questa cosa ok la statua sta in piedi col peso della terra di fusione all'interno e del canone che è stato rispettato c'è uno studio preciso che veniva fatto per farle stare in equilibrio le statue oggi pesano molto meno perché sono state svuotate dalla terra di fusione quindi non possono stare in piedi sole e hanno delle armature dentro però questa cosa è curiosa perché poi ci siamo guardati intorno in tutta la cora di Argos c'erano solo segni di statue senza tenoni di statue che stavano in piedi di statue che stavano in piedi sole e quindi a tutti quelli che facevano domanda sì ma i tenoni segni dei tenoni e una risposta immediata non ce n'era bisogno poi a Roma c'era questo uso magari ve lo so spiegare Daniele perché io no però sicuramente sono più recenti il secondo colpo invece non so se lo vuoi spiegare questo è un altro segno allora il secondo colpo è che mentre scavavano in un posto ad Argos per costruire un palazzo la concessione della Toyota che oggi poi l'hanno costruita sopra hanno trovato una fornace una fornace all'interno della quale hanno trovato delle statue mezze smontate alcune fuse insomma la fortuna vuole che è stata trovata questa statua da Peter Ross uno degli archeologici che abbiamo nominato se voi guardate bene questa statua ha un panneggio ha un braccio di una persona di una certa età somiglia molto manco a farlo apposta vedete che vi faccio vedere a questo signore qui il secondo da sinistra ora io l'avevo modellato prima di vederla questa statua quindi mi viene da ridere perché poi uno trovare le conferme così veramente rimane senza parole questa statua è rimasta ferma vent'anni penso negli scantinati 30 anni negli scantinati nel museo di Argos siamo dovuti arrivare noi per dirgli cosa avevano trovato probabilmente c'è una statua lo stesso gruppo statuario dei bronzi riace affinché partisse il restauro questa statua adesso è da Atene e la stanno restaurando ancora non ce l'hanno fatta vedere ma speriamo presto insomma però hanno analizzato la terra di fusione di questa statua è identica a quella dei bronzi identica anche il bronzo ha le stesse percentuali di quello dei bronzi probabilmente abbiamo trovato la terza statua e Saverio è riuscito a trovare anche il segno della quarta perché sulla base accanto probabilmente il rilievo vi faccio vedere questa cosa di tutta la struttura sono rimaste le prime due basi quelle in alto A e dove c'è il segno di A c'è l'altra base accanto io avendo fatto il rilievo di questo ambiente che vedete ho detto vado a sbirciare vado a sbirciare ho trovato un'altra impronta un'altra impronta un po' più piccola che ci dice che si tratta di un piede femminile guarda caso ora lo studio sicuramente è da fare ma io ho provato a metterla alla stato così per ora per gioco perché purtroppo non possiamo confermare nulla finché non viene fatto uno studio serio e ci può stare perché queste state sono state ricollocate su queste sedra e in quel posto ci doveva stare proprio Antigone quindi funziona funziona secondo ricostruzione funziona secondo colpo quindi abbiamo forse trovato un'altra statua terzo colpo questo è proprio fortuna pura mentre cercavo un'altra cosa stavo cercando una statuetta di re spartano che si trovava in un museo americano ma non sapevo qual è dovevo citarlo in un articolo accanto a questo re spartano trovo questa statua questo signore 32 centimetri siamo in un museo del Connecticut la statua è stata regalata lì da JP Morgan JP Morgan JP Morgan quello della JP Morgan e l'ha regalata a questo museo e la cosa veramente incredibile eccola qua è una bella statuetta di 32 centimetri la cosa bella incredibile è che non si sono accorti l'hanno studiata in tanti si sono accorti di questo è il bronzo A guardate la forma e anche la bocca aperta è il bronzo A ma dove è stata trovata questa statua questa statua è stata recuperata ho scritto e sono stati cortesissimi i responsabili del museo Walsworth e mi hanno risposto veramente il giorno dopo e mi hanno mandato tutto l'incartamento questa statua è stata trovata nel Tevere nel 1906 quindi è la prova provata che i bronzi sono stati a Roma e lì sono stati copiati non che avessimo dubbi non che avessimo dubbi perché avevamo un sacco di prove però questa questa è come dire la prova provata poi guardate la mano si vede che il dito è messo in quella maniera perché teneva la mano è incredibile che fanno libri ora è uscito un libro dalla parte della sovrintendenza sui bronzi fatta apposta con un nome simile al nostro per perché sono fatti in questa maniera e l'autore che è un collega dell'università di Foggia parla di questa stata e non si accorge che il bronzo ha quindi grandi grandi esperti di bronzi noi ne abbiamo questo è un po' lo stato della ricerca al momento mi sono dimenticato qualche cosa ma tante cose che vengono fuori se avete curiosità e cose vedrete tra l'altro io come dire consiglio non comprerei mai il libro per quello che ho scritto io nel libro ma lo comprerei per le immagini che avete visto che sono tutte là dentro e questo è un modo abbiamo provato a farlo leggere anche a dei ragazzini ecco è un modo per appassionarli dell'archeologia perché in questa maniera loro vedono ormai siamo una generazione io sono un boomer però più vediamo vogliamo più vedere essere convinti con le immagini che essere convinti con le parole però ci sono anche le parole ci sono i libri è un testo scientifico però è reso in maniera tale che chiunque può fare Saverio se non vuoi aggiungere altro io chiuderei qui e vi lascerei se avete voglia il tempo e lo spazio per farci domande critiche pomodori lattuga uova marcia fate quello che volete faccio l'uomo adesso sono le comandante a Rappicam che comincia cominci tu si si no chiammi di prendi no io volevo dire soltanto una cosa questa scoperta della Tebaide di Stazio mi lascia sinceramente fuori fuori luogo sinceramente è una cosa nuovissima che non ci avevo mai pensato però facendo mente locale adesso mi ricordo un passo nella Divina Commedia laddove le due fiammelle che si incontrano e si scontrano non si attaccano mai e praticamente sono questi due personaggi ripreso da Stazio di conseguenza anche Dante anche Brunetto Latini erano a conoscenza dei bronzi di viaggio esatto è dimostrato che Dante ha letto Stazio Stazio non è importante ora per i nostri studenti non so quanti che parla nel gioco classico e nel titico abbiano forse solo accennato Stazio ma Stazio è un'opera la Debaide e l'Achillaide sono le opere di Stazio più importanti e che vengono poi dopo anche riprese da tante e noi non siamo invece noi non le valorizziamo mi pare che sia tanto 23 o 24 si famosissimo questa fiamma che anche da morti questi due non trovano pace in nessuna maniera si devono scontrare e verso i traditori verso alla fine vanno alzata esattamente proprio così una alla volta non vi accalcate prendete coraggio dai bravo è una domanda banalissima visto che ne avevate accennato lei ha detto prima che non giunsero mai a Costantinopoli volete chiarire questo aspetto un aspetto curioso questo non volevamo dire l'assassino allora ovviamente quando si parla scientificamente non bisogna dare retta alle proprie ipotesi ma bisogna andare a guardare i dati il dato da cui siamo partiti è questo questa è la foto scattata dal giudice Rizzo il giorno che il bronzo è stato tirato fuori vedete che c'è quel frammento di parete di frammento un bel pezzo di parete di anfora che si trova al braggio sono andato a guardare come l'avevano schedato i miei colleghi archeologi della sovrintendenza avevano detto che era di tutto e di più soprattutto avevano detto che quel frammento di ceramica era capitato lì per caso e io ho fatto questo gesto che rifaccio anche stasera si vede che era invece stato messo apposta per evitare che durante il viaggio il braccio potesse spostarsi l'imballaggio perché i bronzi erano pronti per essere remontati avevano tutto avevano elmi scudi l'anche tutto avevano quando sono affondati parto da questa cosa e vado a vedere che cos'è un'atine anagorà 273 è una tipologia ceramica del IV secolo d.C. e ho lanciato l'idea che siccome siamo nel IV secolo d.C. doveva essere l'epoca di Costantino il responsabile della sala del museo che è un amico mio e una persona che stimo molto che è ora invece è direttore del museo di Vibbo mi ha preso in parola e ha fatto l'analisi di tutti i cocci che sono stati ritrovati sui bronzi ora nella cosa stupida che hanno detto a Siracusa dicono che i cocci sarebbero di III secolo a.C. non so chi gliel'ha detto a questi ma Maurizio Cannatà il dottore Maurizio Cannatà ora direttore del museo di Vibbo li ha analizzati sono tutti di IV secolo d.C. allora 2 più 2 fa 4 il quarto libro il secondo libro dell'antologia palatina è dedicato a tutte le state che Costantino e Costante II suo figlio avevano spostato da Roma a Costantinopoli e quindi bronzi collezione imperiale stavano andando da Roma a Costantinopoli la nave affonda nel IV secolo d.C. quindi i dati coincidono scompaiono i bronzi scompaiono i bronzi a Roma che invece erano stati presentissimi in un sacco di copie che noi abbiamo fino alla fine del III d.C. sono copiati e ricopiati scompaiono si perde la memoria questa statua importantissima scompare quindi per questo noi abbiamo pensato che la cosa più logica sapendo che erano prima d'Argo poi sapendo che erano a Roma sicuramente che stessero andando a Costantinopoli l'unico che può averlo fatto in quel periodo storico è stato appunto era Costantino il Grande o suo figlio Costanzo II Costantinopoli è stata inaugurata l'11 maggio del 323 d.C. e i bronzi saranno partiti da lì a qualche decina d'anni continuiamo allora con le domande ma anche curiosità con la curiosità qualcosa che qui non so rispondere risponderai il progetto che facevano questi bronzi da Roma all'attuale Costantinopoli che centro riace ecco no ha ragione perché questa è la cosa diciamo per quello che riguarda la nostra storia l'informazione di cui adesso parliamo e forse e cose mi hanno fatto benissimo a richiamare noi siamo sulla autostrada dell'antichità cioè chiunque veniva dall'Oriente allora io volevo partire da Alessandria d'Egitto partivo da Alessandria d'Egitto c'era tra l'altro un traghetto che faceva Alessandria d'Egitto Reggio Pozzuoli quello che ha preso San Paolo poi tra l'altro quello che ha preso l'imperatore Tito cioè non ha preso una nave militare per tornare a Roma dopo il sacco di Gerusalemme ha preso il traghetto lo dice Svetonio prende il traghetto Alessandria Reggio Pozzuoli eravamo nella autostrada dell'antichità cioè tutte le merci partivano o da Roma verso l'Oriente o dall'Oriente verso Roma la rotta era questa si partiva da Alessandria si costeggiava tutta la costa della Palestina nel Libano della Fianicia la Siria si arrivava sotto Cipro quindi si faceva tutta la costa meridionale dell'Asia Minore si arrivava fino alla Caria alla parte terminale dell'Asia Minore lì si puntava su Rodi Rodi le isolette vicino Rodi del Dodecanneso e si arrivava a Creta Creta si faceva tutta Creta e lì era l'unico momento difficile perché fino a quel momento voi avevate viaggiato sempre vedendo la costa l'unico momento difficile era il salto tra la punta di Creta e uno dei promontori del Peloponneso lì San Paolo naufragò partito dalla punta di Creta si erano lanciati verso il Peloponneso con la speranza di beccare o Citera o Anticitera le due 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 isole che si trovano tra Creta e il Peloponneso il relitto di Anticitera i grandi relitti che sono là perché sono nella rotta principale quello è l'unico momento difficile dopodiché si arriva nel Peloponneso si va tutta non si va a Messina perché nessuno è pazzo che si trova alla parte di Reggio e deve proseguire per Roma e attraversa lo stretto per diciamo in diagonale lo si attraversa tenendosi sempre alla parte e quindi Reggio all'epoca era un porto enormemente più importante ma tutti i porti della Ionica erano porti di tutto il traffico commerciale dell'antichità cioè tutti passavano di qua al punto che le nostre merci la villa di Casignana ne è un esempio straordinario le nostre merci non avevano bisogno di intermediari per portarle da qualche parte le navi o le rare passavano dormivano ogni notte in un porto e che facevano i grandi proprietari terrieri avevano messo degli empori ai porti e lì vendevamo e che vendevamo? il nostro formaggio tanto apprezzato da Teodorico Cassiodoro lo dice che volevano soltanto il formaggio della Spromonte vendevamo il nostro vino il vino passito che era caratteristica nostra ma vendevamo anche pergamene pergamene inchiostro vendevamo i nostri prodotti e noi non avevamo bisogno e poi tutta la ceramica che facevamo non avevamo bisogno di andare ad avere intermediari che andavano commessi viaggiatori tutti passavano da qua quindi la domanda di cose mi è pertinentissima cioè i bronzi sono passati da qua e sono naufragati poco più a nord di qui perché era l'unica strada tutto il mondo passava di qua l'autostrada dell'antichità noi non capiamo cosa voleva non riuscirò stasera a farvi capire che cos'era la prima globalizzazione cioè quella globalizzazione che c'è stata tra il secondo secolo e l'arrivo degli arabi alla metà del settimo noi potevamo trovare su qualunque porto qualunque merce basta che questo porto si trovasse sull'autostrada ma noi eravamo sull'autostrada e non per un pezzettino piccolo ce l'avevamo tutti ed era una cosa straordinaria per noi ecco perché i bronzi sono finiti qua che poi tra l'altro sono finiti qua in un punto in cui non ci sono grandi accodi nessuno ha mai ragionato sul fatto che i bronzi sono stati trovati di fronte a Porto Forticchio che è un porto romano c'è un'attinenza tra la nave dei bronzi che non è ancora stata trovata e il porto romano lì vicino erano diretti là erano appena usciti da là avevano mentre uscita era cambiato il vento era arrivato lo scirocco e se l'era gli aveva rotto la nave non lo sappiamo se non troviamo il relitto ora stanno cercando in questo momento è impedita la navigazione davanti al riaggio perché ci sono i carabinieri che con l'archeologa subacquea Alessandra Ghelli stanno facendo le ricerche che noi auguriamo siano fruttuose e trovino finalmente il delitto quindi ecco perché era una riaggio ma la cosa incredibile mi faccio la domanda da solo ma stupi d'agora che noi non conosciamo guardate che tutte le fonti antiche dicono che è Pitagora era il numero uno vi cito la fonte è più assurda si chiama Mara di Samosata è un cristiano di terzo secolo dopo Cristo che vive a Samosata cioè vive in Kurdistan Mara di Samosata dice questa frase Socrate non fu dimenticato perché Platone ha scritto i suoi libri il maestro non è stato dimenticato perché i quattro evangelisti hanno scritto la sua opera Pitagora non sarà mai dimenticato perché rimarrà immortale la statua di Hera cioè Pitagora nel terzo secolo dopo Cristo era considerata ancora il più grande di tutti i maestri della storia ma dovete leggere quello che dice Plinio di lui quello che dice Cicerone Cicerone dice che sulla ce l'abbiamo tutti sulle banconote la testa dell'Europa su Toro opera di Pitagora dice Cicerone i Tarantini ce l'hanno e non c'è cifra che vorrebbero avere per poterla dare via poi i romani se la sono pregata lo stesso Pitagora era un geniaccio Saverio ha fatto un bellissimo lavoro cercando di ricostruire i principali i principali stati su cui ancora si può parlare di Pitagora meriterebbe un altro libro a parte il problema di Pitagora è stato una studiosa tedesca la quale ha fatto questo libro che si chiama negli anni 50 che si chiama Pitagoras von Region Ein Phantom un fantasma non ha capito niente le fonti dicevano i sagri di Pitagora avevano il riccio i belli le barbe fatte bene le vene lo dice Plinio ma di quale riccio li sta parlando Plinio a Roma sta parlando dei riccioli del bronzo A e questa che cosa va a attribuire a Pitagora statue calve di personaggi calvi per poi dire non ci ho capito niente grazie che non ci ho capito niente invece di partire con la strada iconografica ragionando invece sarà un'occasione di un altro incontro se vorrete quando vorrete abbiamo trovato statue importantissime il filottete l'Apollo che uccide il pitone a Delphi oppure c'è rimasta a Roma una parte del toro dell'Europa sul toro di Pitagora che è stata scoperta dal sovrintendente di Roma e quindi statue importantissime il perseo che sembra volare ci sono statue che siamo riusciti o l'omnaseas di Cirene che vince sulla quadriga ci sono statue di cui ci sono rimasta immagini filottete è il più importante in cui finisco vi giuro nel filottete è un'opera che Pitagora fece a Siracusa l'Apollo che uccide il serpente l'aveva fatta a Crotone e l'aveva fatta a Taranto Europa su Toro però Pitagora aveva quasi sempre lavorato nel Peloponneso è quell'altra cosa che è certo del filottete noi avevamo un epigramma dell'antologia palatina ed era filottete che si lamentava e diceva che questa statue era stata fatta da Siracusa che lui era una statue e si lamentava perché dice questo cadenazzo di Pitagora non solo ha fatto bene la ferita ha fatto bene le bende il pus e tutte le schifezze ma mi ha fatto soffrire per l'eternità cioè per la prima volta c'era il personaggio sofferente era riuscito a rappresentare un uomo che sta soffrendo e noi la testa di questo uomo che sta soffrendo l'abbiamo trovato con una copia e si trova all'Ermitage a San Pietroburgo e siamo riusciti a ricostruire l'intera statue quasi tutto il gruppo statuario e ci fa capire la potenza evocatrice di questo genio che ogni statua che faceva metteva una cosa nuova i bronzi sono una cosa nuova nessun maestro noi abbiamo opere di Fidi abbiamo opere di Mirone abbiamo opere di Calamis Scopas Praxiteles originali ma la potenza che hanno questi non ce l'ha nessuno e se poi cominciate a ragionare su questo fatto dei fratelli è che si tratta di un gruppo di attori fermi guardate A come è arrabbiato e B ha battuto sempre la stessa sapete quante volte la sentite B sembra a me quando mi interrogavano in greco castrizio paradigma di Titasco e io diventavo B Saverio ha fatto il conto degli occhi A guarda fisso B B guarda per terra ma B è eteocle da un lato è stato lui che ha combinato il pasticcio si vergogna dall'altro è l'uomo che sa che sta per morire lui crede alle parole di Tiresia e capisce che dopo il discorso di Tiresia lì c'è il duello e dopo il duello c'è la morte e l'uomo di fronte ha la morte la consapevolezza della morte ma dico quale stato avete visto che vi dà significati politici significati morali significati religiosi sono due statue straordinarie potete dire che a uno gli viene abbronzito e per forza grazie no no che grazie aspetta aspetta grazie grazie intanto per tutte le cose che ci avete letto e soprattutto per la passione che dimostrate nel condurre questa serata perché è contagiosa veramente questa cosa volevo dire fare due domande la prima è questa quanto c'è di studio vostro attingendo dalla chimica da quello che è il vostro mestiere quanto c'è d'altra parte sull'iconografia sui fenomeni sociologici nel valutare lei prima faceva questa considerazione oggi c'è la fotografia inoltre c'è l'iconografia quanto c'è nel vostro agire il giorno nel vostro andare a scartatellare le cose quanto c'è anche di fenomeni sociologici che all'epoca si verificavano e se la seconda domanda invece è questa oggi con l'ausilio dell'intelligenza artificiale lei pensa che questo coacerbo questa mescolanza di informazione voi così avete attinto in tutta la vostra vita può essere come dire la frontiera che possiamo andare a superare che possiamo ecco possiamo ancora attingere possiamo ancora sapere e percepire ancora di più rispetto a quello che è allora intanto grazie io partirei dalla seconda domanda io non ho paura dell'intelligenza artificiale proprio per questo tipo di studi perché l'intelligenza artificiale è quasi averio che la usa e quindi sa benissimo come è fatta anzi poi gli passerei un attimo il microfono è come dire un'intelligenza su quello che è già stato fatto qua si tratta di intuizioni una dopo l'altra e quindi l'intelligenza artificiale intuire ancora non è in grado fino a un certo punto ma non riesce a fare grandi grandi salti e questa è la prima cosa però poi si deve vedere al momento non abbiamo non ci fa paura a me non non fa paura la seconda prima domanda invece e avevo in qualche maniera risposta all'inizio cioè uno non può fare tutto poi io sì sono un archeologo però io non sono specializzato in storia dell'arte per cui quando bisognava stabilire se i bronzi di riace erano stati fatti da pitacola sulla base del modellato dei muscoli e io là mi sono fermato ho dovuto chiedere aiuto a Antonio Corso Antonio Corso ha dimostrato che le statue attribuite a Pitacora di Reggio e i bronzi hanno lo stesso modellato per cui probabilmente sono della stessa della stessa mano e dopo averlo detto timidamente adesso ogni volta lo ribadisce in maniera sempre più forte e sempre che ho più prove quindi per quanto riguarda l'archeometria mi sono anche là fermato Massimo Vitale il più grande esperto di archeometria in Italia è quello che ha condotto tre delle quattro indagini che vi ho detto e Massimo è un amico e si parla con Massimo per cui non soltanto ho il dato della pubblicazione ma anche la sua impressione per quanto riguarda la fusione e tecniche di saldatura Koichi Ada un altro amico mio che è giapponese e siamo in contatto spessissimo e Koichi Ada è quello che vi sa descrivere i bronzi che non saprei millimetro per millimetro e mi faceva vedere qui hanno messo il canale di colata qui hanno saldato a V qua hanno saldato a Ovale ma che vedo io non vedo niente per cui alla fine è un gioco corale io chi sono? io sono un professore di numismatica e iconografia per cui la mia parte era quella iconografica io vi devo dire questo è il confronto questo simbolo significa questa cosa quest'arma quando Paolo Moreno mette nelle mani dei bronzi giovellotti io là sono andato dal professore Moreno buonanima e gli ho detto che non era assolutamente d'accordo perché il giovellotto iconograficamente è un'arma da vigliacchi giovellotto piglio lancio scappo e finita il vero uomo combatte da fermo combatte con la lancia di fronte faccia a faccia questo è l'apporto cioè quello che è mancato a tanti miei colleghi che non hanno guardato i segni perché non hanno un approccio iconografico sono magari molto più bravi di me per dire e per sapere riconoscere se è del 430 che è del 420 da un movimento della bocca o come ha fatto l'arcate pigastrica io queste cose le so ma non bene perché non è campo mio però mettendo insieme tutti i saperi un'ultima cosa che vi volevo dire sapere può fargli vedere i bronzi nell'epoca romana che non erano così quando i bronzi vengono portati a Roma hanno già 400 anni di esposizione sulle spalle sono una statua del 1600 esposta oggi di bronzo c'erano dei danni fu fatto un restauro molto importante che solo l'imperatore si poteva permettere il braccio destro e l'avambraccio sinistro del bronzo B non sono greci sono romani cioè si erano rotti questi probabilmente hanno fatto un calco delle braccia rotte hanno fatto la fusione e li hanno saldati l'alternativa è che hanno buttato le braccia che si erano rotte hanno staccato un braccio il novembraccio da una statua coerente e l'hanno ambiddato ma Saverio ha recentemente dimostrato che non è possibile perché nella sua sovrapposizione del braccio del bronzo A al braccio del bronzo B si vede che sono praticamente fatti dalla stessa sono stati pensati dalla stessa testa quindi non è possibile come fanno a coprire questo grande restauro e tutta l'ossidazione che c'era stata mi telefona il professore Giovanni Bucculieri che è l'esperto delle patine dell'Università del Salento che è l'esperto delle patine del bronzo è quello che aveva trovato che il bronzo A aveva un cancro del bronzo nella gamba nelle due gambe ed era pericolosissima perché il cancro del bronzo dove piglia distrugge e l'avevano fermato e mi dice senti Daniele ma perché c'è tutto questo zolfo sulle stagio io gli dico guarda Giovanni non ho idea c'era per caso a Reggio coigiata e vado da Ada Sensei gli dico Ada Sensei scusami ma sta cosa lui fa così schiocca col dito e dice ecco l'avevo pensato perché ci sono qua se ve lo faccio a vedere vedete questo nero che si vede ci sono delle patine nere molto forti e mi facevano pensare che i bronzi sono stati dipinti di nero si qua si vede proprio che c'è sto nero che sono stati dipinti di nero quando sono stati restaurati per cui noi sappiamo che durante il periodo romano i bronzi non erano del colore che avete visto tanto belli con le barbe bionde e tutte queste belle cose ma erano arriva come se fossero delle statue di basalto o come dice Coiciada come se fossero dei bronzi di Corinto nero lucido vedete questa è la collaborazione Giovanni Bucculieri parla con me io non me la tengo perché non so rispondere giro a Coiciada metto in contatto Coiciada con Bucculieri al convegno che abbiamo fatto tra Reggio e Messina nel 2018 i due arrivano alla conclusione univoca e la portano al pubblico e a vera pubblicata così funziona io non posso sapere tutto però in questa maniera qualunque informazione che viene condivisa con tutto il gruppo dei ricercatori per questa sarebbe importante che a Riace si facesse un centro permanente di studi sui bronzi non per fare granché per vedersi una volta l'anno tutti quelli che studiamo i bronzi e comunicarci quello che abbiamo imparato anche per farci dire no guarda questo è uno sbaglio stai andando nella direzione sbagliata però è questa è la somma dei saperi uno tutto non può non può certamente riuscire poi io grazie non ci sono domande abbiamo finito con le domande non ci credo approfittiamo ce le abbiamo adesso qua quando le incontriamo un'altra volta domanda ecco prego solo una curiosità che cosa c'era cosa ipotizzate perché erano l'allestato ecco giustissimo non è una curiosità è una cosa importante allora intanto il mito dei sette a tebbe è un mito argivo perché è vero che i personaggi sono tebbani però lo scontro avviene parte da Argo sono il re di Argo che manda sette guerrieri a combattere contro tebbe ma la cosa più importante due cose importanti sono avvenute alla metà del quinto secolo avanti Cristo intanto Argo riesce a diventare padrona dei giochi di Nemea i giochi di Nemea insieme ai giochi olimpici giochi delfici e i giochi istimici erano i giochi panellenici i giochi di Nemea erano stati fino a quel momento presi dalla città di Cleone che non so manco non l'avevo mai studiata mentre facevo storia greca la città di Cleone aveva i giochi Nemei alla metà del quinto secolo Argo che è più forte si prende i giochi Nemei chi aveva istituito i giochi Nemei? Polinice Polinice il quale partendo da Argo aveva distratto con la sua bellezza una nutrice che stava tenendo in braccio il figlio del re di Cleone del re di Nemea scusatemi e l'ho appoggiato per terra per andare a parlare con Polinice e questo bambino viene morso da un serpente e muore Polinice si rispiace e fa dei giochi funebri in onore del bambino morto e questi giochi saranno poi i giochi di Nemea che sono caratterizzati da un senso sepolcare e funerario la corona che si vince a Nemea è la corona di Sedano il Selinon che è la corona che si mette sui morti i vincitori sono con una tonica nera perché è sempre una cosa in ricordo di questo bambino morto quindi Polinice è importante l'altra cosa per non farvela troppo lunga è che la battaglia dei Sette a Tebbe vede uno schieramento inedito cioè vede Argo contro Tebbe e Atene dalla parte di Argo che è una cosa innaturale perché gli argivi sono dori e dovrebbero stare dalla parte degli spartani però dalla metà del V secolo a.C. gli argivi si ribellano agli spartani e trovano come loro alleati gli ateniesi per cui dovevano dire al popolo guardate che gli ateniesi sono amici nostri fin dai tempi dei tempi dei tempi dei tempi per cui anche questo significato c'è gli ateniesi sono nostri amici nei Sette a Tebbe ricordatevi che noi abbiamo avuto dalla nostra parte solo Atene però secondo me è preminente il fatto che Polinice sia quello che ha inventato i giochi di Nemea che erano il grande vanto i giochi di Nemea che durano più dai giochi olimpici sono riusciti a resistere qualche anno in più dalla chiusura da parte di Tedoso II dei giochi olimpici quindi è una cosa veramente importante non so che sono stato chiarissimo ti voglio far dire però una cosa che non c'entra niente apparentemente con i bronze però la voglio fare dire a te perché forse è la prima volta che la diciamo in pubblico l'acropoli di Locri Epizefri dove è che si trova secondo te secondo me l'acropoli di Locri Epizefri da tanti anni che lo scrivo è Gerace e può sembrare strano in verità due cose la prima è una cosa di buonsenso e non sempre il buonsenso Saverio lo sa non funziona sempre il buonsenso l'acropoli Gerace è rispetto a Locri alla stessa distanza dell'acropoli di Corinto rispetto a Corinto anche a Corinto c'è una roccaforte bellissima l'acrocorintos che è praticamente Gerace che sta messa lì e protegge Corinto ma io me ne sono accorto studiando Livio quando i romani prendono Locri che era alleata dei cartaginesi quando c'era Annibale succede un fatto strano che non era mai stato spiegato dagli storici romani allora l'acropoli di Locri cade perché i locresi tradiscono i cartaginesi e fanno entrare i romani ma dice Livio l'altra acropoli rimane nelle mani dei cartaginesi e si ammazzano come i cani allora hanno tentato gli archeologi di dire ma st'altra acropoli qual è? ora è impossibile che ci siano due acropoli nella stessa città e soprattutto come dire perché ti devi ammazzare quando giri da dentro e li pigli per cui non c'è nessuno nella seconda acropoli e poi considerate che uno dei reperti più belli che si trova all'Ocri è l'elmo di Montefortino del tipo di Montefortino tipo che era usato nella guerra annibalica nella seconda guerra punica che è stato trovato sulle falde di Gerace per cui è testimonianza di quei combattimenti disperati per cui Gerace che è sempre stata considerata medievale eccetera eccetera ma dico basta guardare una cartina andare su Google Maps su Google Earth ma chi può cercare di tenere l'Ocri se non ha Gerace prima cioè chi ha Gerace ha l'Ocri perché Gerace è veramente un punto forte questo soltanto per dirvi che forse dovremmo metterci come per i bronzi a avere una prospettiva diversa e a curare un po' di più i nostri interessi storici e in questo mi riallaccio a quello che ha detto Cosimo cioè cominciare a ragionare sulla nostra storia però col nostro punto di vista e non con la tedesca Enephantum o con questi archeologi torinesi che non hanno capito ancora come funziona il nostro territorio avere un po' di riguardo noi persone stessi perché abbiamo veramente una storia come avete visto una storia incredibilmente basta bellissima e ora una domanda a Sabella sicura la vuole fare la signora a Sabella ma spero che le fanno una domanda a Sabella ho realizzato la mano comunque sì una domanda la farei io ho sentito parecchie ricostruzioni sui bronzi uno dei quali riguarderebbe Castore e Polluce si dice che fossero questi due dei che erano protezione della città di Riace poi quando arrivò il cristianesimo vennero presi gli dei buttati a mare e subentrarono i santi Damiano e Cosma che dire allora l'ipotesi è di un mio amico morto che era il professore Giuseppe Roma che era l'ordinario dell'archeologia di Cosenza ci sono alcune la cosa che devo dire è che l'ipotesi ha secondo me un fondo di verità ma non l'ha trovato il professore Roma ma l'ha trovato il parroco della parrocchia della Candelora a Reggio Calabria un signor pensa bene che aveva fatto un libercolo bellino simpatico pazzo come era lui ma era una persona straordinariamente interessante nel quale diceva aveva notato una cosa vera se i due santi Cosma e Damiano sono due santi di Costantinopoli martirizzati a Costantinopoli invece a Riace questi due santi vengono presi e buttati a mare in uno scoglio in un posto che non è molto lontano dove sono stati trovati veramente i bronzi di Riace allora Monsignor pensa bene diceva ma probabilmente queste statue nel Medioevo erano visibili ogni tanto scopertura della sabbia il mare bassa marea sei cose cioè qualcuno l'aveva vista là sotto e le avrà scambiate per i santi Cosme e Damiano quindi dimostrerebbe questa teoria ma di fatto bisogna manco di dimostrarlo che i bronzi erano lì anche nel Medioevo e questo funziona funziona molto bene il professore Roma ci mette il carico da 11 facendo andando però contro due dati per me incontrovertibili il primo è il dato della terra di fusione non sono stati fatti all'Ocri purtroppo aveva sperato Rossolloy ma la terra di fusione è di Arco l'altra cosa che a me come iconografo e qua torniamo mi dà fastidio è che sono con la barba e io che ho visto migliaia di immagini di Castor e Polluce i Dioscore basta andare al museo di Reggio a vedere quelle di Locri sono tutti imberbi perché sono ragazzi quindi tutto possono essere meno che però nel libro è dato conto pure di questa cosa e c'è una bella ricostruzione che Saverio ha fatto cercando di mettergli per forza l'elmo a pileo quello dei Dioscore per farvi vedere che insomma noi abbiamo cercato di seguire tutte le ipotesi di dare conto di tutte le ipotesi cioè non siamo venuti a dire noi abbiamo ragione buongiorno e il resto è niente abbiamo mostrato tutte le ipotesi di vita Don Das tutti quelli che hanno aperto bocca Sandro Stucchi Paolo Moreno lo stesso Vincent Brinkman quindi tutti quelli che hanno parlato dei bronzi noi rendiamo conto di queste ipotesi nel libro con le immagini perché ognuno poi si faccia le sue considerazioni personali è stato dibattuto nel 2000 in un convegno a Reggio in sovrintendenza e qualcuno siccome era appena uscita la notizia che i bronzi erano di Argos qualcuno dei grandi erano presenti il professore Giuliano il professore di vita Paolo Moreno erano tutti là davanti a me io molto più giovane 24 anni più giovane ed ero messo in terza fila e loro erano in prima fila e parlavano con Massimo Vidale che aveva appena fatto queste scoperte e aveva chiesto loro la stessa domanda ma non è che questa sabbia se la sono presa e Vidale rispose in modo molto tranciato no la terra di fusione è proprio sabbia non c'è bisogno di spendere soldi per prendere la terra di fusione perché basta qualunque terreno argilloso refrattario che va bene diverso è il discorso per la terra per le saldature quella viene comprata per cui io ancora non ho approfondito perché non è uscito un articolo scientifico ma questi due ricercatori di Siracusa parlano di terra di Siracusa non è detto che non sia vero perché loro parlano di questa terra nelle saldature e le saldature la terra delle saldature ora ci siamo fatti spiegare mentre veniamo qua in macchina da Domenico Colella questo giovane che è bronzista molto bravo gli abbiamo chiesto ma è così importante che sia buona l'argilla per le saldature e ci ha fatto tutta una spiegazione che deve resistere al calore alla temperatura che se si mette sabbia scarsa come quella della terra di fusione possono esserci dei cristalli che possono essere immagazzinati e quindi fare un effetto molto brutto lì bisogna spendere dei soldini per le saldature bisogna avere un'argilla che sia argillosa veramente che provenga da una foce di un fiume che sia riconosciuta di qualità quindi può anche essere che mentre fondevano i bronzi ad argo si siano procurati l'argilla di Siracusa ma dobbiamo vedere i dati che sono usciti che sono venuti fuori però no tutti i bronzisti ci hanno assicurato sia quelli moderni che gli storici della bronzistica che la terra di fusione ogni città aveva un posto dove preleva l'argilla per fare gli impasti andava bene quella e allora ma ne alzate non ne vedo devo insistere allora ci liberate ma è una domanda a sapere ma inventate ma dice una cosa che rendiamo un applauso allora grazie Antonio grazie a voi per la pazienza l'abbiamo tenuto più di le parti che abbiamo detto ci vediamo domani sera domani sera faremo un viaggio nel 1800 con i viaggiatori dell'epoca grazie a voi grazie a voi grazie a voi